In piedi Corruzzo Come va? Come va? Bene, esatto Signori mi auguro voi apprezzate la novità D'essere riuniti qui tutti insieme Un po' l'americana Vi dico subito che per il tipo di lavoro che ci attende siamo in pochi E dovremmo essere molti di più, molti di più seduti Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini E con un certo successo Non è senza significato Che abbiano destinato proprio me In questo momento Alla direzione dell'ufficio politico Ciò è stato deciso poiché Tra i reati comuni E i reati politici Sempre più si assottigliano le distinzioni Che tendono addirittura a scomparire Questo scrivetevelo bene nella memoria Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo Sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale Nella città che ci è stata affidata in custodia Sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili Che spetta a noi di recidere Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario E la sovversione organizzata E la sovversione organizzata Istituzionalizzata Legalizzata Nessuna Le due azioni tendono allo stesso obiettivo Sia pure con mezzi diversi E cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale 6.000 prostitute schedate Un aumento del 20% di sciopere Ed occupazione di edifici pubblici e privati 2.000 case d'appuntamento accertate In un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato 200 stupri in un anno 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città Un aumento del 30% delle rapine degli assalti alle banche 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi 600 omosessuali schedati Più di 70 gruppi di giovani sovversivi Che agiscono al di fuori dai limiti parlamentari Un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente Dei protesti cambiari Un numero indescrivibile di riviste politiche Che invitano alla rivolta L'uso della libertà Minaccia da tutte le parti I poteri tradizionali Le autorità costituite L'uso della libertà Che tende a fare di qualsiasi cittadino Un giudice Che ci impedisce Di espletare liberamente Le nostre sacrosante funzioni Noi siamo a guardia della legge Che vogliamo immutabile Scolpita nel tempo Il popolo è minorene La città è malata Ad altri spetta il compito di curare e di educare A noi il dovere di reprimere La repressione è il nostro vaccino Procino Repressione è civiltà Bravo Bravo dottore Complimenti Bravo dottore